Carlentini in vacanza da incubo per tre turisti, auto li travolge sul marciapiede e ricoverati in ospedale. Incidente nel Seracusano, un'auto travolge tre pedoni e Carlentini in corso alle indagini per capire come mai la macchina sia andata fuori controllo colpendo i tre passanti. Secondo una prima ricostruzione dell'evento incidentale, una donna ha perso il controllo della sua opera e ha travolto una coppia di coniugi e la cognata che erano su un marciapiede. Alla guida del mezzo, una donna di 57 anni, residente nel posto dove è avvenuto il sinistro. Le cause sono ancora al vaglio dei carabinieri che stanno effettuando gli accertamenti di rito per capire cosa sia realmente successo. Sul posto anche il comandante dei Vigili Urbani di Carlentini e gli agenti di Polizia Municipale. Sono quindi tre feriti, tutti in ospedale, le persone coinvolte sono di Vicenza. Diversa collocazione per i tre feriti nel nostro comandante stragusano. Il marito si trova al Cannizzaro, la moglie è invece al San Marco. La cognata è ricoverata nell'ospedale di Lentini.